Buongiorno, come state? Anche oggi continuiamo a parlare di lettere un po' strane, in particolare della lettera G. Qualche settimana fa vi avevo detto che la lettera G è speciale perché si può leggere in due modi diversi, cioè si può leggere G come in GA, GO, GU, ma si può leggere anche G come in GE, G. Oggi studiamo proprio queste sillabe, GE, G, perché anche loro possono diventare GE e Ghi. Vediamo come. Iniziamo con GE. Queste due lettere insieme si leggono GE. Per poterle leggere GE, devo spostare la G e aggiungere una lettera che abbiamo visto la scorsa settimana, cioè la H. In questo modo, queste tre lettere messe insieme si leggono GE. Ripetiamo. Queste due lettere insieme si leggono GE, ma quando aggiungo la H le leggo GE. Quindi queste due lettere insieme si leggono GE. Proviamo a scrivere qualche parola e iniziamo con RIGHE. Vedete infatti che questa maglia ha delle RIGHE bianche e delle RIGHE arancioni. Quindi, vi ripeto la parola RIGHE. La prima cosa che scriviamo è RI, poi RIGHE, quindi GE. In questo modo, però, ho scritto soltanto GE e quindi la parola si legge RIGHE e non è corretta. Per scriverla bene, sposto la G e aggiungo la H. Quindi RIGHE si scrive proprio così. Andiamo avanti e proviamo a scrivere SPAGHETTI, che è una parola un po' lunga. SPAGHETTI. Quindi la prima cosa che dobbiamo scrivere sarà SPA. SPAGHETTI. Così però ho scritto SPAGHETTI, quindi sposto la G e aggiungo la H. SPAGHETTI. Dobbiamo però completare la scrittura. SPAGHETTI. SPAGHETTI. Ricordate che SPAGHETTI si scrive con due T. Passiamo adesso a G, perché anche G può diventare Ghi. Queste due lettere insieme si leggono G. Ghi. Per diventare Ghi, sposto la G e aggiungo la H. Quindi Ghi con l'aggiunta della H si legge Ghi. Quindi queste due lettere insieme si pronunciano G. Scriviamo altre parole Iniziamo con funghi Quindi fun E poi bisognerà scrivere ghi Così però ho scritto soltanto g Quindi sposto la g E aggiungo la h Funghi Andiamo avanti Nel barattolo c'è il pesto Invece nel piatto c'è la passata di pomodoro Il pesto e la passata di pomodoro sono due sughi Quindi proviamo a scrivere sughi Su e poi ghi Così però ho scritto sughi C'è un errore Manca qualcosa Manca la lettera h In questo modo la parola è scritta correttamente Sughi Adesso tocca a voi A casa nel vostro quaderno oppure nei commenti sotto questo video Potete scrivere aghi 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 E rughe Rughe Anche questa settimana la nostra lezione è finita Ciao a tutti